ciao a tutti benvenuti ormai siete più di 300 grazie a tutti sono felice che i miei video possano esservi utili oggi vi presento alcune creazioni per il natale è lontano ma è bene prepararsi per tempo questi sono dei presepini con burattini a dita come vedete sono leggermente diversi ma tutti fatti con burattini a dita infilati dentro delle bacchette che possono essere di legno oppure le palette in plastica di quelle per il caffè questo ha la particolarità di essere fatto al libricino quindi sta in piedi e può essere utile anche come fondale per un vero e proprio presepe i burattini infatti possono stare anche in piedi magari con il supporto di un tappo di sughero o di un tappo di pennarello questa è una pallina per albero di natale ricavata da cartone riciclato è un porta burattini queste palline sono invece in plastica acquistate a modico prezzo riempite con poco muschio e con il solito supporto di palette per caffè adesso vi presento i miei angioletti sono fatti in pannolenci con un guanto intero rosa e l'abito bianco e possono anche stare in piedi e quindi si prestano a varie forme di gioco dramma ciao a tutti e divertitevi a preparare il natale a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti